Vediamo il funzionamento di un circuito puramente induttivo, cioè un circuito nel quale è presente un solo induttore di valore L. Quindi l'induttanza dell'induttore sarà L. Rappresentiamolo inserito in un circuito con un generatore di tensione. Generico bipolo al quale associamo l'induttanza L dell'induttore. La tensione del generatore sia una generica tensione V con questi segni. Rispettando le convenzioni sui segni, quindi corrente uscente dal segno più del generatore, la indichiamo qua, sia questa corrente di nome I con L, per ricordarci che è la corrente che scorre nell'induttore. La tensione ai capi dell'induttore, sempre rispettando la convenzione dei segni, sia V con L con il più dove entra la corrente. Diamo dei valori, per esempio, per i nostri calcoli. Supponiamo che la tensione sia 10 volt e abbia fase 0. E supponiamo che l'induttanza dell'induttore sia uguale a 5 mH. La frequenza dell'alimentazione si appare a 2 kHz, quindi 2000 Hz. I 5 mH, ricordiamo che li possiamo esprimere come 5 per 10 alla meno 3 mH, usando l'adevuato esponente, e i 2 kHz li possiamo esprimere come 2 per 10 alla 3 Hz, quindi ovviamente sono equivalenze, quindi sono gli stessi valori. Andiamo a esprimere l'impedenza dell'induttore, che sappiamo essere pari a J ω per L, dove L è l'induttanza e ω è la pulsazione del nostro circuito. Quindi, sostituendo l'espressione di ω come 2 pi greco F, otteniamo J 2 pi greco F per L. Andiamo avanti e andiamo a sostituire i valori del nostro esempio. Quindi, J 2 pi greco F è 2 per 10 alla 3 Hz, quindi 2000 Hz, per L, che abbiamo detto essere pari a 5 per 10 alla meno 3 Henry, quindi 5 mH, millesimi di Henry. Qua possiamo semplicemente fare i calcoli. Abbiamo un 10 alla terza moltiplicato 10 alla meno 3, che mi dà 1, quindi rimane J 2 per 2 per 5, 10, quindi 2 per 10, 20 pi greco. Quindi, 20 per pi greco è 62,8, quindi il risultato è J 62,8 Ohm. E questa è l'impedenza dell'induttore. Il valore 62,8, cioè il modulo dell'impedenza, questa prende il nome di X con L, e cioè rappresenta quella che si chiama la reattanza induttiva dell'induttore. La reattanza induttiva, che è il modulo dell'impedenza dell'induttore. Questo è un nome che manderemo a mente, è un simbolo per rappresentarla, che useremo molto spesso. Adesso andiamo a vedere l'impedenza che abbiamo sotto forma algebrica, quindi abbiamo parte reale 0 e parte immaginaria J 62,8. Questa, se la esprimiamo in modulo e fase, cioè in forma polare, sarà modulo 62,8 e fase pi greco mezzi. Ricordiamoci che un numero immaginario puro è un numero che ha fase pi greco mezzi. Quindi, in questo caso, rappresenta l'angolo caratteristico dell'impedenza, che sarà uguale a 90 gradi, o pi greco mezzi, appunto. Andiamo a calcolare la corrente nell'induttore, la iconelle, che è quella del circuito, applicando la legge di Ohm generalizzata. Quindi sappiamo che la corrente sarà uguale al fasore della tensione diviso l'impedenza ZL. Quindi la V con L non è altro che la tensione del nostro generatore, quindi esprimiamola in modulo e fase in forma polare, quindi 10 volt 0 gradi. diviso l'impedenza dell'induttore, che abbiamo detto essere 62,8, fase 90 gradi. Abbiamo il rapporto di due numeri complessi, quindi il calcolo si riduce al rapporto dei moduli, quindi 10 diviso 62,8 con fase uguale alla differenza delle fasi, quindi 0,90 gradi. Quindi calcolando il rapporto dei moduli otteniamo 0,16 fase meno 90 gradi. E questi sono Ampere, la corrente nell'induttore. Rappresentiamo sul piano di Gauss i fasori, tensione e corrente, asse dei reali, asse degli immaginari. partiamo dalla tensione che ha modulo 10 e fase 0, quindi giace sull'asse dei reali, avendo fase 0, questo è il fasore della tensione ai capi dell'induttore, che ha modulo 10 e fase 0. il fasore della corrente, abbiamo detto che ha modulo 0,16, quindi non rispettiamo le scale, ma approssimativamente avrà una lunghezza quindi molto inferiore a quella della tensione, la fase è meno 90 gradi o meno pi greco mezzi in radianti. Vedete quindi il diagramma vettoriale tensione e corrente ai capi di un induttore e da quello che vediamo possiamo dire che la corrente che scorre in un induttore è in ritardo di 90 gradi rispetto alla tensione ai capi dell'induttore. Ricordatevi il ritardo perché l'angolo che dobbiamo percorrere per andare dalla tensione alla corrente è di meno 90 gradi, quindi rappresenta un ritardo della corrente rispetto alla tensione. Viceversa potremmo anche dire che è lo stesso che la tensione è in anticipo di 90 gradi rispetto alla corrente. Quindi per spostarci dal vettore della corrente sul vettore della tensione dobbiamo percorrere un angolo di 90 gradi. Questa relazione vale per tutti gli induttori e quindi la evidenziamo.